La denominazione di Homo sapiens è una denominazione sessuata, sessista e arrogante. Reali sono invece il biocidio e la devastazione ambientale, come una delle espressioni della violenza contro i corpi delle donne, delle soggettività LGBTQIA+, degli animali umani e non umani, delle popolazioni native e della terra. Tale violenza sistemica si fonda sulle logiche di proprietà e sfruttamento del capitalismo estrattivista, pastorale e patriarcale, in cui i corpi oppressi di animali umani e non e la terra sono al contempo ridotti a risorsa e reificati, femminilizzati e naturalizzati. So, la creazione di Homo sapiens, come abbiamo detto, è a base della nostra normativa immaginaria, collettiva immaginaria. È una denominazione che è sessuale, sessista e arrogante. Cosa è reale è la biocidio e la devastazione ambientale, che sono una delle espressioni di violenza contro i corpi delle donne, delle soggettività LGBTQIA+, delle soggettività humana e delle donne e della popolazione nativa e della terra. Questo tipo di violenza è fondato sulle logiche di proprietà e dell'exploitazione, come in caso di capitalisti extrativismo. e quindi in tutta questa logica, i corpi che sono oppressi, sia umano e non umano, e della terra sono riducati a una risorsa che è sempre già femminilizzata e naturalizzata. Siamo quindi post-antropocentrico, perché critichiamo l'esistenza stessa di un soggetto umano come categoria essenzialista, come entità chiusa e sempre uguale a se stessa, e come centro dell'azione nella creazione nel mondo. I corpi sono fluidi ed esistono solo in relazione. So, what we say is that we are post-antropocentric, in the sense that we criticize the way in which the existence of the human subject as an essentialized category is constructed, as a category that is closed and always the same. We instead believe that bodies are fluid and they exist just in relation to each other. Ecco, terminiamo qui il nostro intervento che avevamo cronometrato, ma che con la questione della traduzione si è andato a raddoppiare, lasciandolo nel nostro tavolo, segue una lista di tutte le campagne, iniziative che abbiamo fatto, se siete interessati lo trovate al nostro tavolo.